Troppi errori nel PD, per questo Dario Stefano lascia il partito e annuncia che non sarà candidato alle prossime elezioni politiche e quantomeno non lo sarà nelle liste del centrosinistra, visto che i continui rimandi del comunicato d'Europa e Agenda Draghi farebbero pensare ad azione e quindi al terzo polo di calenda da tempo fan del senatore leccese. Solo una supposizione ovvio, eppure i fatti non sono meno clamorosi. Il parlamentare uscente ha annunciato sui social la fine della storia, piuttosto travagliata con il Partito Democratico, attaccando il civismo opaco e di convenienza in una pura logica di scambio di voti. La mia è una decisione sofferta, scrive Stefano, determinata da una serie di errori di valutazione che il PD sta continuando a inanellare, errori sia tattici sia di strategia politica. Tattica e strategia, già la stessa che vedrebbe delle liste tra Camera e Senato blindatissime con big nazionale e innesti di civismo, pretesi dal governatore Michele Miliano, che sembrano scontentare la classe dirigente dei democratici pugliesi. Non è un caso che diversi amministratori, in queste ore frenetiche, stiano manifestando attestati di stima per Loredana Capone e altra top player a rischio esclusione. Come già detto più volte, la situazione nel centro-sinistra pugliese resta tesa, complicata e alla fine gli scontenti rischiano di essere davvero troppi.